Il gorgonzola nasce nel 1100 nel cuore delle prealpi lombarde. Un tempo veniva chiamato stracchino erborinato per via delle venature verdi simili all'erborin, nome dialettale del prezzemolo. Da qualche tempo il consorzio di tutela ha definito due tipologie. Il gorgonzola dolce più morbido e cremoso a causa della maggior proteolisi e della panna che vi viene aggiunta al latte e il piccante con pasta più compatta e gusto più deciso. Il latte per produrre il gorgonzola viene raccolto ogni giorno dai produttori del consorzio sparsi nelle province di Brescia, Bergamo, Como, Cremona, Milano, Pavia in Lombardia e di Novara, Vercelli, Cuneo e il territorio di Casale Monferrato in Piemonte. La stagionatura ottimale per il gorgonzola piccante varia dai 90 ai 110 giorni. Il gorgonzola viene poi marchiato su entrambe le facce piane della forma ma il consumatore all'atto dell'acquisto potrà avere la garanzia dell'autenticità del marchio stampato sullo sfondo della stagnola che avvolge il formaggio concesso esclusivamente alle aziende autorizzate dal consorzio.